Oltre 70 le iniziative presenti all'interno dell'opuscolo di anteprima degli eventi fanesi promossi dall'assessorato cultura e turismo del comune di Fano, con una programmazione 2019 più mirata in grado di valorizzare tutti i periodi dell'anno con appuntamenti variegati ed interessanti attraverso un ventaglio di manifestazioni a partire da spettacoli, concerti, mostre, intrattenimento fino ad arrivare ad appuntamenti che esaltano la tradizione enogastronomica della città. Queste comunque sono tante che siamo riusciti a inserire nell'anteprima perché ogni anno che passa si migliora il rapporto con le associazioni, con le istituzioni pubbliche e private che insieme al comune mettono in campo le iniziative, in modo tale che la comunicazione che è importantissima sia più precisa, si evitano sovrapposizioni, lavoro che noi abbiamo messo in campo ormai da tempo, e soprattutto si fornisca un panorama di iniziative per tutti i gusti, unitamente a un'immagine della città che coniuga l'archeologia, ovviamente la romanità, l'accoglienza, l'enogastronomia, il carnevale evidentemente, ma anche cose nuove come mostre di grande livello. L'enrico carnet di eventi, sostenuto anche dal coordinamento dei tanti volontari, associazioni e dai vari professionisti del settore, è stato progettato, come ribadisce il primo cittadino, in modo da evitare sovrapposizioni di eventi rilevati negli scorsi anni. Successivamente, con la pubblicazione del book definitivo, previsto per il mese di maggio, sarà poi possibile far conoscere Fano e le sue iniziative in fiere e appuntamenti di settore. Beh sì, stiamo confermando una tradizione di grande qualità, ma soprattutto di grande organizzazione perché a novembre, come anche lo scorso anno, presentiamo tutti i programmi in anteprima, quindi con tutta la possibilità di fare una vera programmazione per attirare sempre un maggior numero di turisti. Questo è un elemento che ha caratterizzato questa amministrazione rispetto al passato e quindi voglio evidenziarlo. Accompagnato a questo è i contenuti, perché è un programma veramente ricco, usciti da una stagione straordinaria, quella della passata estate, che continuerà nella prossima programmazione, ma come sempre migliorando sempre più, portando sempre innovazioni e a cui, quindi rispetto allo scorso anno, si aggiungeranno anche altri eventi straordinari che porteranno veramente Fano ad un livello internazionale.